FAN DA BERS Allora, come stanno andando le vacanze? Ah, piuttosto bene, passo del tempo con la famiglia, il solito Ah, che figata! Oddio, non muoverti! Cosa? Che c'è? C'è un ragno sulla tua testa Sono terrorizzato dai ragni, prendilo, prendilo! Quanto è buona la tua mira? Questo basta per rispondere alla tua domanda? Ah, questo caffè è freddo! Oh, lascia che te lo riscaldi io! Wow! Come ci sei riuscito? Beh, è solo il mio superpotere! Tutti ne abbiamo uno! Quindi ne ho uno anche io? Sicuro! Solo non sai ancora quale sia! Basta che ti concentri Pensa ad un... Rilascio di energia Ok Concentrati ora Penso di sentire qualcosa Fantastico! Prova a focalizzarti di più Oh, tutto ciò è super eccitante! Stai per scoprire il tuo super... Ciao ragazzi! Come al solito è un video infrasettimanale breve Ma se vi è piaciuto mettete un bel pollicciazzo su Noi ci vediamo domenica Con un nuovo E frulufurulueueueueue video Ciao ragazzi!